Ti dicono comunque è pioggia violenta, no violaccia, viola, perché io l'ascolto straniera, adesso mi farà 90 volte in italiano e dopo scopro poi cosa dice il testo, sono fottuto. Però per dirti, e ci sono dei brani quando va giù, il testo finale, perché sembra che non finisca mai, già di suo non finisce mai di suo, che la tagliano perché molti vanno proprio a casa. Oh lui, come si chiama? Prince, l'ha presa sassate, perché ai concerti non finisce mai questa qui, lui va avanti, lo sassano e lui va via, ma va via, pensa che lui fa un concerto solo con 30 serate, perché è sempre la stessa sera, cambia il pubblico. Comunque, per darti un'idea, allora ragazzi, questa è la vera droga, questa è la vera droga, drogarsi, io mi drogo con la saliva, sono autospacciatore, caro ragazzo. No, sai che dopo che mi hai raccontato questa cosa qua di Purple Rain registrata 40 volte che continua a sentire, ho capito, ho capito perché lui scappa sempre in giro per il mondo a vedersi tutti i concerti di Springsteen e di Rolling Stone, lo fa per non viaggiare con lui. È morto Purple Rain, è coso? No, Prince è ancora vivo, continua a fare concerti, si vede i dischi. Se muore se ne accorgono zero, perché la canzone... A proposito di tecnologia, e il telefonino, che rapporto hai con il telefonino? Guarda, mi verrebbe di dire anale perché così ti togli dalle palle con una domanda assurda, ma che rapporto vuoi che abbia? Se non ce l'ho muoio, no? È semplice. No, è un rapporto di una persona che riceve 20 telefonate al giorno, tutti errori, quindi il tema bisogna... Ma che... mi potevi chiedere... Mi potevi chiedere se faccio parte del trio padre, figlio, spirito, santo, che è una domanda che non mi ha fatto nessuno e quindi non posso svelare il segreto. Che rapporto hai con... Eh, adesso è comodo. Che rapporto hai con i tuoi capelli e col tuo naso? Dio santo, infilo gli uni nell'altro, quando non so che domande mi facciano non so che risposta dare, ma che rapporto vuoi che abbia? Vabbè, io quando vedo un calvo gli dico, dice, quello non ha i capelli, chi ha detto che non li ha? Li ha che crescono all'interno, vedi il concetto? Allora, è il rapporto tra l'avere e non avere, tra il guardare, il mancare e l'essere. Ah, Sandro sei un stupido a stare qua a parlare. Però avete visto che... Vai a Trani a ascoltare Purple Rain! Avete visto che sul naso non ha risposto? No, ha risposto, ha risposto sul naso. Io il naso me lo sono rifatto tre volte, ma dentro, dentro, io cambio l'arredamento, esternamente mi piace. Io dentro... Ragazzi, nel naso c'è vita, ci rendiamo conto. Stiamo qua a porci i problemi delle periferie. Questo è il bigliettino? È un biglietto con il cornetto. Cominciano le idee grosse, arriveranno lo champagne, arriveranno i numeri di telefono. Senti, senti la bellezza di questa frase, la bellezza di questa frase, ti dico, ti dico. È vero, no? Perché io non sopporto quelli che mangiano il corno, tengono tutta la carta dritta, poi lo richiudono benino e lo rimettano lì, come si faceva a scuola per dire, io non l'ho preso. Poi arriva il barista, l'altro è andato via, non l'ho pagato. Vabbè, niente. Allora, ma l'ho fatto, l'ho fatto una volta sola. Però viene tutto ammorticiato. La domanda non è una domanda. Credimi, ogni tanto si può. Vedi, dentro questa petta a fare la domanda se uso il phone. Non ho fatto una domanda. Perché lo so che la prossima è il phone. Dai, tanto c'è. Dai, lo so che rapporto ho col phone. Raffreddo il telefonino, guarda, ti do già la risposta. I rapporti che ho col naso e il telefonino, prima di rispondere al telefono, la riusatina gliela do. Sento chi è e poi apro. Ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? No, io mi chiedevo se la domanda... Oh, ma devo rispondere qua, lui qua. Sì, ma te la fa il cornetto o te la fa chi te l'ha mandato? Me la fa la ragazza, perché sento che è una ragazza. Dio buono se lo sento. No, è un ragazzo. No, è una ragazza. Io ho la telepatia rotta. E che stai sognando troppo? Niente, sto sentendo una musica. Dio buono, quella lì. È papurreni. È papurreni. Non ci può fare niente. No, sto aspettando il King Crimson. Cambia radio. Cambia radio. Perché mi chiami camerata? Cambia radio. No, perché a un certo punto questo si gira e mi dice camerata, ma te ragazzo, te hai dei superpoteri, camerata. Camerata, voglio sperare che sia così. Cominciamo a parlare di arredamento, nel senso che... La camerata. Non che ti... Ecco, non che ti riferisci. No, speriamo. Credimi, ogni tanto si può. Questa persona, uomo o dono che sia, è un unco. Ci sarà un eununco. Questo eununco ha detto... No, ci sarà un eununco, non è un augurio. Ma potrebbe essere il nuovo libro... Mi fai fare della satira, Basti? Il nuovo libro della Tamarro. Della Tamarro. Del Tamarro. Ci sarà un eununco. Una battuta. Dai. Non ho citato nessuno, ho parlato, ma poi... O va dove ti porta l'eununco. Ma va bene. Dio cosa ho aperto? Ho aperto un vespaio. Adesso non finisce più. Va avanti, venti minuti. Ti faccio fare un concerto con Pampo Ren. Te spari i titoli. E lui... Allora... Preferirei King Crimson. Va bene, va bene, va bene. Ti diamo il gelato che vuoi. Credimi. Ogni tanto si può. Guarda che qui dentro, innanzitutto, credimi. Parola importante. Ogni tanto non mi piace. Ma si può? Sai cosa diceva... Gianni Morandi. Hai già detto sì. Non stai ancora a cosa sto dicendo. Sai cosa diceva... Credo fosse... Chi era quel... Dio Santissimo. Come si... Insomma... Lui. No, no. È un filosofo... È un filosofo... L'altro. Famoso. Chi? L'altro. Bart. 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 Proprio Bart. Che era un filosofo. Famiglia dei Simpsons. Lui diceva... Noi siamo perché possiamo. Io posso. Non io devo. O io ho il potere. Io posso. Qui dentro c'è... Ti hai guardato l'orologio. No. Io... Ora che te lo ciuli. Che è uno dei casi. Non mi fai delle domande sull'orologio. Rapporto tra l'orologio e il naso telefonato da Bruce Priestin mentre usa i capelli. Fammi una domanda un po' costruita. Aspetta. Si è perso il ragazzo. No ma voi non avete idea perché con lui è come se sei su un ring, no? Tu cerchi di restare in piedi e lui continua a buttarti giù. Hai qualche sport preferito? Spero di aver creato una tensione, uno stato di tensione che appena la domanda stronza pare voi lo capiate proprio con un testo senso. E secondo me si è creata quest'atmosfera qua. Ma hai fatto un po' costruita. Oh, io te lo dico. Ti dico solo una cosa. Allora non fai nessuno sport. Se mi chiedi che scuole faccio ti riempio di botte. Te lo dico. Siamo già partiti dalle scuole. All'inizio. Ma l'inizio non esiste. Alfa e Omega. Orologi e automobili. Sei contento? Il riferimento. Tutto insieme. Tutto insieme. Lui basta che... No. Che domanda mi hai fatto? Se? Qualche sport? Ho corsi in automobile. I risultati in pista è troppo difficile. O facile. Perché in pista sono capaci tutti. Vai ancora in autostrada a te. Con la tuta al casco a 300 ore. Fare le partenze. Là è più difficile. Dice che l'autostrada non è una pista. No, sicuro. Piena di camion così. Dei vigili. Non è una pista. No. Comunque. Lasciamo stare. Basket. Guardare mio figlio che gioca. Guardare l'NBA. Presto spero di andare a New York. Che poi c'ho anche un concerto da vedere. Ma cosa vado a vedere? Tanto... Prince. So tutto... Ma non è possibile. Ogni tanto esci. Camerata. Prince. Non volevo dire. Non volevo... Non volevo... Senti. Non ho neanche finito sta domanda qua. Ma che va... Dai che profumo uso. Dai. Allora. Il tuo peggior vizio. Ti voglio perdere. Le dita nel naso. Degli altri. È una cosa che mi prende a me così. Sei a un certo punto. Siamo in un bar. Tac. Vado in line. Non ce la faccio. Il tuo miglior pregio? Che è quello di farmi beccare. Quando gli ho infilato. Ma che... Ascoltami. No. Il mio peggior vizio è l'immedesimazione. Immedesimarmi degli altri. Che è anche il mio miglior pregio. Ma sei sicuro di farcela? È una domanda che io vorrei fare a te. Da un quarto d'ora. Ma... Che cosa vuol dire? Non sei sicuro di farcela. Di immedesimarti degli altri. Vacca miseria. Mi sembra di essere a Camelot qua con te. Per forza. Per forza hai risposto. Io ho detto mi sembra di essere a Camelot. Lui ho detto per forza. Per forza. Vi rendete conto che il livello ci sta alzando. C'è una marea psichiatrica nell'uomo. Qua e si alza. Dai vai vai. Ce la faccio. Vai picchia forte. Se mi piacciono i westerns. Solo col telefonino o col phone. Allora. Bisogna chiudere se senti che dormi. No. Dicono che ti toccherebbe adesso autografare un po' di libri. Questo sotto metafora significa... Significa che è finito. No, non è finito. No, non è finita. Allora sono... Stamattina è uguale a mezzogiorno è finita. Ieri mezzanotte è finita. Finisce tutto. Io sono terrorizzato. Noi siamo degli amanti. Come le lucciole. Dei 40... Noi siamo degli amanti. Ascolta, bisogna che stai attento a quello che dici perché c'è della simpatia ma prima che nasca proprio l'amantato. Siccome a noi ci... La domanda dello sport. Se avessi avuto un sogno su di te, Dio Bonino, mi è arrivata una smazzata. Io non posso andare sul lago di guerra. Tu sai che non è un sogno ma un bisogno, in realtà. In realtà il bisogno del nostro pubblico è adesso i 10 minuti di firma copie e poi riprendiamo col sogno.